Buongiorno ragazzi, buon sabato. Allora, arrivata la decisione dell'UEFA e niente, siamo stati squalificati per un anno, un ambiente di 10 milioni più 10 se non si rispetteranno determinati parametri, 23, 24 e 25, cosa che mi aspettavo e mi auguravo, fare la conferenza sarebbe stata una partita di tempo e ti lasciava il rischio di venire squalificato l'anno prossimo, cosa che si doveva evitare perché almeno giochi un campionato con un obiettivo quest'anno, almeno entra nelle prime 4. Quello dell'anno scorso alla fine si è dimostrato essere un campionato farsa, che ci hanno fatto vivere sull'altalena e quindi una stagione sportiva vissuta su una menzogna, sul nulla, è questo che lascia la mare in bocca, una società che non si è saputa difendere, un doppio pesismo che dà fastidio, la Juventus è sempre il capo espiratorio di tutto, le prime volte succedono sempre a noi e poi cambiano le regole e poi c'è chi ancora dice che la Juventus comanda il calcio italiano, che ai bottoni di comando ci siamo noi, vuol dire che è gente che non ha vergogna, la Juventus non comanda veramente nulla, nulla, almeno da che ho memoria io la Juventus si è potuto pigliare un'inculata dalla FIGC l'ha pigliata, quindi oppure di episodi in Europa sfavorevoli a valanghe e quindi tutta sta grande potenza della Juventus a livello politico io non l'ho mai vista, poi c'è chi dice che la Juventus ha avuto dei favori ed è una società potente per questo ha vinto, sarà, io tutta sta potenza non l'ho vista, quindi spero solo che questa sia la pietra tombale su tutte le cagate che hanno fatto contro di noi, che d'ora in avanti la dirigenza metta un ufficio stampa, un qualcuno che alla prima illazione ci difenda e si tira una linea dritta su questa situazione, basta, sia a livello sportivo con l'allenatore, sia a livello di comunicazione con una comunicazione diversa, un modo di agire diverso, perché con questo modo di agire non andremo mai da nessuna parte, mai da nessuna parte, a me di di essere simpatico non me ne frega niente e come diceva l'allenatore quello che avrei rivoluto quest'anno non per caratteristiche tecniche ma per grinta e per Juventilità, per Juventilità era Antonio Conte che diceva sono antipatico perché vingo, non è un problema mio ed è questa la verità, a me non mi interessa di essere simpatico a nessuno, quando sei simpatico vuol dire che sei debole, un po' di antipatia la devi avere perché vuol dire che o ti temono o ti invidiano, io voglio essere o temuto o invidiato e quindi sta cosa da fastidio. Detto questo sul calciomercato ragazzi c'è poco, ho rivisto gli highlights della partita, Timothy Weah mi sembra un ragazzo che ha voglia di fare, tanta voglia di fare, spero che tutti gli altri prendano spunto da questo ragazzino che è venuto in punta di piedi senza nessun proclamo, però già si vede in campo che ha voglia di dare l'anima per questa maglia, il resto ragazzi ripeto a me rimane l'amaro adesso che si è messa una riga, di aver visto una situazione grottesca, far vivere la società sette mesi del nulla, falsare un campionato totale, però sembra tutto normale, nessuno ne parla, tutti zitti, le altre indagini sono finite nel nulla, va bene così. Vi lascio un buon sabato ragazzi e forza Juve sempre, vi abbraccio.